Un mese dopo l'annullamento della seduta del 28 febbraio, il Consiglio Comunale di Sondrio torna a riunirsi domani alle 17.30 ma in maniera virtuale, nel rispetto delle prescrizioni previste per contenere il contagio. In sala consigliare ci saranno solo il Presidente del Consiglio Maurizio Piesini e il Segretario Comunale, mentre il Sindaco Marco Scaramellini, gli Assessori e i Consiglieri saranno collegati da casa in videoconferenza. Il pubblico potrà seguire la trasmissione dell'intera seduta in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Sondrio. Nella conferenza dei capigruppo, spiega il Presidente Piesini, abbiamo concordato di portare in discussione solo temi che avessero una scadenza di legge, come la variazione di bilancio, e di utilizzare la conferenza quale momento di incontro e aggiornamento tra la Giunta e tutti i gruppi consigliari. Sperimentiamo una modalità diversa di confronto per affrontare una situazione eccezionale, condividendo lo spirito di collaborazione manifestato da tutti i gruppi. Uno solo l'argomento all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco, la ratifica della deliberazione della Giunta relativa alla prima variazione al bilancio di previsione 2020-2022.